E' stata stroccata la banda criminale specializzata in furti, soprattutto ai danni di bar, tabaccherie e concessionari. 11 colpi messi a segno tra le province di Arezzo e Siena, in manette 11 persone, soprattutto albanesi e gomeni residenti a Roma e Perugia. La banda era composta anche da due italiani. L'operazione, denominata Pitbull, è stata portata a termine dalla squadra mobile di Perugia, visto che alcuni colpi erano stati commessi anche in Umbria, 43 negozi e le aziende assalite dalla banda. Tra le persone finite nell'inchiesta, anche un prete ortodosso della comunità moldava, del capoluogo Umbro. In terra retina si ricorda soprattutto il colpo messo a segno nello scorso mese di aprile alla concessionaria Boninsegni di Sansepolcro. Le persone arrestate devono rispondere di vari reati, dal furto aggravato alla ricettazione, dallo spaccio di droga al favoreggiamento. Il bottino dei furti veniva proprio reinvestito nel mercato degli stupefacenti, 250.000 euro, il giro d'affari maturato. Oltre alla droga, la merce rubata veniva rivenduta, mentre il provento dei grattaivinci vincenti veniva trattenuto. Oltre a trattori, materiale tecnologico e per la casa, erano stati accumulati anche 16.000 litri di gasolio.